Qualcosa è cambiato, Geralt. Ultimamente il mondo sta agendo di sua strana iniziativa. Il nord e il sud sono in guerra. I mostri vagano anche se dovrebbero essere in letargo. Potrebbe essere la fine del mondo. Ho superato tre presunte fini del mondo. Tutte stronzate. Questo continente non era destinato a nessuno. Nessuno di noi si darà pace. Fino a che non ci sarà più nemmeno un mostro al mondo. È casa mia. La mia lotta. Il tuo prezioso capo sta cercando qualcosa. Tu sei una pedina per arrivarci. Voglio ricostruire le nostre forze. Raddoppiare i numeri. Noi siamo un impero. La guerra inizia ora. La paura è una malattia. Ti può consumare. Possiamo soltanto... affrontarla. Ti senti pronta? Se quello che mi hai raccontato riguardo ai poteri della ragazza è vero, tu non puoi aiutarla. L'uomo, il mito, la leggenda. Devi aiutarmi. D'accordo. Ma prima? Signori miei, è stato un onore. Che c'è? Mi sono fatto nuovi amici. Fatela passare. Gelosone.